buongiorno buongiorno a tutti ben trovati sul mio canale oggi sono contentissima di girare questo video di presentarvi questo meraviglia qua guardate guardate ebbene si si tratta del calendario dell'avvento creativo del sito semplici bijoux rené è stata fantastica ha progettato questa cosa già da diversi mesi e vi assicuro che il lavoro dietro è stato veramente tantissimo e però secondo me c'è riuscita alla grande allora questo progetto nasce dalla collaborazione di rené con me e con altre due bravissime creative una è antonella vecchietti e l'altra è rosaria di raro creazioni artigianali e questo calendario vi accompagnerà quindi tutto il periodo dell'attesa prima del natale e ogni giorno aprirete qualcosina e con il materiale contenuto all'interno di questo meraviglioso calendario potrete fare non uno non due non tre ma bensì quattro diversi progetti che vi assicuro sono uno più bello dell'altro io li ho già visti e sicuramente li rifarò tutti e quattro non vi dico chi farà cosa o come perché appunto non vi voglio togliere la sorpresa però posso anticiparvi già perché rené mi ha dato il permesso che si tratterà di un ciondolo di un bracciale e di due paia di orecchini non vi dico altro per quanto riguarda i colori avrete già il secondo spoilerino nel momento in cui andremo ad aprire questa scatola adesso mi munisco di taglierino e vediamo subito come si presenta il nostro calendario ovviamente non apriremo niente non apriremo nessuna bustina perché appunto le aprirete voi una ad una in tutto il periodo dell'avvento e però adesso lo apriamo che così poi vi dico altre due tre cosine importanti allora ho già aperto la scatola un po lavelina in modo da fare meno rumore possibile e una volta aperto ho trovato questo allora c'è una bustina con scritto sopra leggimi e poi iniziamo a divertirci ovviamente ve la leggete voi per conto vostro poi vabbè il bilettino da visita del sito poi c'è questa meravigliosa card no guardate la grafica che carina qua c'è babbo natale con la slitta e la renna le casine con la neve l'albero di natale poi c'è pure il grinch io adoro il grinch poi ci sono i cannellini di rené e poi c'è pure rené vestito da folletto da elfo fantastica bellissima e poi c'è il primo regalino che ovviamente io non apro ma ve lo aprite per conto vostro bene ora andiamo al succo del discorso e voilà questa è la meraviglia che troverete all'interno del calendario come vi dicevo prima le colorazioni dei progetti sono già intuibili con il primo sguardo vedendo appunto i colori delle bustine quindi ci sarà un progetto sui toni del blu uno sui toni del rosso uno sui toni dell'oro e l'altro sui toni del verde fantastico ogni bustina avrà scritto sopra un numerino che corrisponderà al giorno in cui dovrà essere aperta tipo questa ha il 9 quindi questa bustina io la aprirò il 9 di dicembre sono tutte chiuse con degli adesivi bellissime sempre a tema natalizio cioè guardate qui con che cura è stato fatto il tutto e pensate a quanto lavoro ci sta dietro complimenti veramente René e Stefano si è stati veramente bravissimi qui vedo che c'è anche un altro regalino sempre io non apro vi faccio solo dare un'occhiata generale allora ci sono altre due cosine che vi devo assolutamente dire allora in alcuni in alcuni calendari ripeto solo in alcuni calendari oltre a queste bustine ci sarà un'altra bustina che conterrà una gift card del valore di x non vi dico da quanto perché ovviamente non voglio togliervi la sorpresa che vi permetterà di avere un buono sconto su d tot sul sito di semplici bijoux spendibile nel mese di gennaio quindi fantastico altra cosa che vi devo dire è riguardo i progetti che ovviamente i tutorial dei progetti non usciranno tutti insieme ma usciranno in giorni in vari giorni di dicembre quindi a maggior ragione seguite seguiteci sui nostri canali questo calendario non l'ho detto prima perché mi sono dimenticata perché è abbastanza una cosa ovvia è in quantità limitate per cui se lo volete mi raccomando sbrigatevi perché rischiate di rimanere senza io penso di avervi detto tutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo super progetto fatemi sapere se intendete prenderlo o comunque se l'avete già comprato se state così veloci da comprarlo subito io vi saluto vi ringrazio per aver visto questo video vi ricordo che sotto nell'info box trovate tutti i link sia direttamente del calendario dell'avvento sul sito di semplici bijoux e anche il link delle altre colleghe creative che hanno partecipato a questo progetto vi mando un bacione enorme e vi do appuntamento a prestissimo con altri video ciao